Aspettando Tutino, la settimana santa del Cosenza si apre all'insegna di una sorpresa da trovare nell'uovo di Pasqua, quello che si augurano i tifosi che lunedì seguiranno la sfida dei rosso-blu dagli spalti del Marulla, nel giorno di Pasquette, di rivedere in campo dopo un mese circa di stop, il capo cannoniere dei Lupi, Gennaro Tutino, uscito fra le lacrime nel derby con il Catanzaro e che con i suoi 12 gol ha trasciato la squadra ad importanti vittorie. Ma quello che spera invece il tecnico Viali è di ritrovare un gruppo caparbio, tenace e pronto a raccogliere un successo casalingo che manca da ormai troppo tempo dalla sfida con il Venezia. Con il Brescia non sarà una gara semplice da affrontare, toccherà a Luca Massimi dirigere l'incontro in programma nell'impianto cosentino. Maran punta i calabresi e spera di centrare un successo che permetterebbe alle rondinelle di consolidare un posto nei play-off. Fuori casa il ruolino di marcia però non è entusiasmante e l'ultimo K.O. dei Lombardi è ad opera della capolista Parma. E proprio con gli Emiliani è chiamato ad affrontare la sfida di lunedì pomeriggio al Tardini il Catanzaro di Vivarini che spera di rosicchiare posizioni in classifica in vista dei piazzamenti play-off. La squadra giallorossa prepara la sfida ma senza troppi patemi e con la consapevolezza che quello che arriverà in queste ultime otto gare che restano al termine della stagione regolare sarà tutto di guadagnato.